La questione animale tra etiche, diritto, splendore e dolore nel rapporto uomo ed animale. Questo è il tema del convegno in programma oggi e domani a Salerno e Campania. Ad organizzarlo l'associazione Giordano Bruno e il Centro Culturale Accademia in collaborazione con l'archivio di Stato di Salerno e il Lega Ambiente Campania Circolo Silarus di Eboli. Il via all'archivio di Stato in Piazza Conforti a Salerno con la presentazione di un libro sulla questione animale curato da Silvia Castiglione e Luigi Lombardi Vallauri inserito nella collana di biodiritto diretta da Stefano Rodotà. Sempre nell'archivio una mostra denuncia sulle condizioni degli animali negli allevamenti intensivi e nei macelli. Secondo Lega Ambiente, l'industria dell'allevamento produrrebbe il 33% di gas serra in più rispetto all'intero settore dei trasporti, senza contare che per un chilogrammo di carne servono 15 chilogrammi di vegetali appositamente coltivati. In sostanza, secondo l'associazione ambientalista, si risparmierebbe il 90% di risorse se si consumassero direttamente i vegetali. La due giorni punta anche l'indice contro i macelli, promuovendo una cultura vegetariana di vita. Domani la chiusura nella tenuta dei principi di Varano a campagna. La questione animale è molto importante e si è aggravata, nonostante la legislazione a favore degli animali, a causa degli allevamenti intensivi. Una sezione della mostra di Lega Ambiente ne tratta e dice cose raccapriccianti su come sono tenuti questi animali e sui danni che gli allevamenti intensivi provocano all'ambiente e alla salute umana. L'Italia è stata anche richiamata più volte anche nell'Unione Europea per le condizioni all'interno di questi allevamenti. Sì, perché c'è una direttiva europea del 99 che stabilisce che entro il primo gennaio del 2012 sarebbero dovute scomparire le gabbie degli allevamenti di galline ovaiole. Invece questo, erano 13 anni di tempo, invece questo purtroppo non è finito. Perché vorrei richiamare l'attenzione su quello che è un dettaglio, ma è gravissimo. Prima i polli venivano allevati liberi, quindi i maschi venivano uccisi e diventavano carne, le femmine facevano le uova. Adesso negli allevamenti intensivi le galline hanno la fecondazione artificiale, quindi non hanno una vita per niente naturale. I pulcini devono essere solo femmine per essere ovaiole. I maschi, i piccoli appena nascono, sono buttati in una tritatutto e vengono triturati. Degli scienziati hanno fatto delle ricerche sull'influenza, sulla febbre spagnola del 2018, hanno prelevato dei tessuti. La febbre spagnola era una viaria ed è stata peggiore di quello che si sapeva perché è diffusa in tutto il mondo, si parla addirittura di 100 milioni di morti. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia contro future pandemie. Tutto dipenderà dalle scelte che faremo noi. Vogliamo lasciare il pianeta così o vogliamo ribellarci a questa logica di orrori e maltrattamento per gli animali e di danni alla salute umana e al pianeta?